Ciao a tutti ragazzi, appena terminata Spal Juventus, Juventus che perde in casa della Spal 2-1, però ragazzi tutto sommato sconfitta pronosticabile perché dal momento in cui Allegri decide di far giocare tantissimi giovani e questo è il risultato siamo andati in vantaggio 1-0, ci hanno ripreso loro 1-1, poi hanno fatto il 2-1 e questo sicuramente fa girare le scatole per come è maturata questa sconfitta perché secondo me un pareggio lo si poteva strappare in questo campo peccato quindi festa scudetto rinviata, non sto qua a disperarmi più di tanto la cosa di cui vorrei parlarvi invece è la seguente, ovvero la prestazione di Paolino Di Bala molto deludente, ditemi voi che cosa dovrei trarne da questa sconfitta perché io l'ho criticato tanto sull'atteggiamento, sulla mentalità ci sono state date delle attenuanti, ovvero la sua posizione non proprio congeniale in campo che non esalta quelle che sono le sue qualità oggi per era in una posizione che poteva veramente spaccare tutto, dimostrare di tutto e di più dire ad Allegri coglione ti stai sbagliando io dovrei giocare molto di più di quanto mi stai facendo giocare e non mi fai giocare, non me lo consenti quindi schierami in campo con l'Ajax da titolare punta, attaccante o seconda punta comunque molto più avanzato di quanto mi stai mettendo ora uno vede la prestazione di Di Bala e qualsiasi allenatore dice no, tu non è che giochi da tuttocampista tu vai in panchina con l'Ajax e questo mi dispiace perché non riesco a capire questo calo non è imputabile solamente ad Allegri ragazzi non possiamo dire una roba simile perché se diciamo una roba simile stiamo difendendo solo il giocatore stiamo dando tutte le responsabilità all'allenatore secondo me lui ha tante responsabilità tantissime responsabilità su questo suo calo ripeto, per me è molto deludente vederlo giocare così bei segnali in vista del rush finale sul campionato sicuramente la prestazione di Quadrado la prestazione di Ken anche Spinazzola tutto sommato non ha giocato mica male Cancelo oggi ha fatto una discreta partita ragazzi questa sconfitta qua veramente non mi fa né caldo né freddo perché ormai lo Scudetto l'abbiamo vinto è veramente questione da poco addirittura se il Napoli perde col Chievo che penso non accadrà mai una roba simile però se perde col Chievo lo Scudetto è già nostro, figuratevi quindi vediamo, vediamo un po' cosa succederà con l'Ajax è inutile poi far dietro elogia ovvero se usciamo con l'Ajax dire eh ma lo Scudetto dovevamo vincerlo prima col senno di poi siamo tutti bravi giusto far riposare tutti io mi aspetto adesso una gran partita soprattutto da parte di chi ha riposato martedì in casa contro i Lanceri per il resto ragazzi che dire iscrivetevi al canale lasciate un like ditemi la vostra su di bala sulla partita, su come avete visto questi giovani gran personalità Nicolussi Caviglia ha fatto un bel tiro dalla distanza che ha parato Viviano bravo, bravo ragazzo bravo ragazzo altri giovani che mi hanno veramente citato dal punto di vista calcistico no per ora solo Hans Nicolussi e anche Gozzi ha fatto una discreta partita ecco Castanos così così paragonare da Pjanic come fa qualcuno forse è un tantino esagerato ecco e basta ragazzi iscrivetevi al canale mettete like e commentate 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 che voglio sapere la vostra ciao a tutti e sempre fino alla fine forza Juventus passate al canale di Juventibus perché sto per entrare in live ciao a tutti io sto qui ciao a tutti